Questa mattina grazie al prefetto c'è stata una riunione in prefettura di 26 sindaci, sono stati convocati, di 26 comuni che hanno o già oggi emergenze gravi o che stanno andando verso un'emergenza idrica importante. L'invito, l'appello ha fatto stamattina i 26 sindaci e di conseguenza a tutti gli abitanti del nostro territorio di avere da qui ai prossimi 40 giorni, che saranno 40 giorni critici, perché già oggi siamo in una situazione difficile e non si prevedono piogge per i prossimi 40 giorni, di avere un uso assolutamente responsabile dell'acqua potabile, limitando, se non annullando, tutti quelli che sono gli usi impropri. Solo così riusciremo a superare questo grave periodo. A oggi abbiamo chiusure notturne in molte zone, in molti comuni. Gli abitanti devono rendersi conto cosa mai è successo in questo territorio, che se la situazione perdura in questi termini e i consumi non diminuiranno, saremo obbligati a fare delle chiusure diurne sul nostro territorio. Ad oggi nel nostro territorio quali sono i comuni più in difficoltà? Ce ne sono 26, sono comunque quelli della zona fascia nord di Verbagna, la zona dell'Alto Vergante, i comuni soliti che già avevano criticità. A oggi però, con questa emergenza idrica, diventa davvero difficile riuscire a sopperire anche solo di garantire il servizio minimo all'utenza. Un quadro complessivo della nostra provincia? Sì, la nostra provincia sta andando sempre più in difficoltà perché la carenza di piogge e non avere anche la neve che ha fatto riserva per questo inverno ha portato a una situazione che era già stata prevista, avevamo già fatto delle riunioni in prefettura perché sapevamo che da questo momento fino alla metà di agosto saremmo andati in crisi e infatti il numero di comuni che stanno diventando rossi sulla mappa che ci ha fornito Acquanovara VCO sta crescendo, si parla di quasi una trentina di comuni. Quindi oggi con questa riunione ulteriore in prefettura si sono messi sul tavolo tutta una serie di valutazioni ed elementi per cercare di calmirare il problema, ma soprattutto cercare di fare un'informazione importante e anche dei controlli per far sì che la popolazione si renda conto della gravità e modifichi gli atteggiamenti da avere con l'acqua, cioè non è più come una volta e tra l'altro dovremo abituarci perché probabilmente il cambiamento climatico porterà questa situazione a ripetersi anche in futuro. E cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Nelle prossime settimane non sono previste pioggia, ci dicevano fino al 15 di agosto, quindi sicuramente soprattutto in comuni in cui l'acqua è approvvigionata tramite le sorgenti, le fonti che vanno ad asciugarsi e quindi i bacini in crisi. Il problema è che autobotti, chiusure notturne non sono sufficienti per poi andare a superire tutta una serie di criticità che adesso sono sotto controllo, ma man mano che aumentano i comuni in difficoltà rischiano di diventare ingestibili.